Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come migliorare la qualità video su Starfield ovviamente se aprite il gioco e vi esce una quantità tipo così vuol dire che il rendering non è attivato e non sta renderizzando così l'immagine quindi se vai su opzioni su video vai su scala risoluzione rendering lo metti a 100% metti tutta la grafica bassa tutta la grafica bassa per quelle che hanno una scheda video abbastanza potente sfocatura di movimento mettete no sul v-sync mettete no e su upscaling mettete FSR2 il Fatality FX Super Resolution 2 dell'AMD nitidezza lo mettete a 100% e in poco tempo migliorerete così la qualità sul gioco però farete pochi fps se questo video vi è stato utilissimo su come migliorare la qualità video su Starfield attraverso l'upscaling e la scala di risoluzione rendering per renderizzare così l'immagine più aumentare la nitidezza fino al 100% lascia like iscriviti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao